Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi stiamo diretti a Mantua per la qualificazione a Camminato Italiano Kayak Acqua Interne e sono le 5 del mattino, quest'oggi è domenica 27 marzo quindi ho anche dormito uno e meno e non sono in viaggio già da un'ora, quindi potete immaginare ci siamo diretti a Mantua per la qualifica che non è semplice come avete visto dal video della prova non è affatto semplice, cioè pesce ce n'è poco siamo in 12, ne passano solo 3 quindi c'è da sperare che il pesce sia attivo e mangi basta un pesce per qualificarsi molto probabilmente quindi speriamo vada bene dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, commentate il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti superiamo i 170 like per questo super video quindi direi di non perdere altro tempo e via con la sigla superiamo 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 buon superiamo 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 come come vado peppe riesci a prenderti? come stai tornando indietro go ok te devi prepararti prima ok Ok. Sollete. Ok. Ok. Perché non hai portato il motore? No. Ma c'è meno fatica. È sotto in verità, non ci sono i pedali, sono finti. Ah, io probabilmente mi metterò a guardare la Formula 1. No, io non mando niente. Beh, non perdete tempo, cioè siete in gara, pescate. Ma quello non è un problema, bisogna intanto prenderlo il pesce. Prima bisogna prendere il pesce per mandare le foto. Sì, però non so, se sei così vedi le macchiature. Oh, a me mancano 15 secondi alle 8. No, e le 8 sono già passate da 43 secondi. Ma guarda l'iphone. E questa mano è che si regola da su o di? Sì. Uno, otto. Via. Io fai l'una. Fine gara. Ciao. Ciao. Buongiorno. Sì. Prende la scia? Sporco. Oh, la prossima volta bisogna portare una canna pesante. Lanciamo su Mirko. Tranquillo anch'io. Buongiorno. Ma... Una pausa. Buono l'acido lattico. Arrivederci. Bello. Bello. Bene. Chi? Per class, Sporco. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Okay Alla prossima 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 A parte Alla prossima 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 Raga che Alla prossima Alla prossima Alla prossima Porco Alla prossima 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 Alla prossima